c'è la torretta davanti che impedisce eh allora facciamo una pirata aspetta Chiara facciamo una pirata pronti alla pirata? pronti? tiro e ora ne vediamo per un po' di fuori la prima, la prima un'altra scotta che fai sotto i piedi ora guarda Chiara ora guarda Chiara come il mare? appoggio appoggio sto appoggiando sto appoggiando sto appoggiando sto appoggiando pesi, distribuzione pesi sto appoggiando pronti ad abbattere? pronti abbatto, andando al centro abbatto La barca ferma.